Siamo qui oggi per dare vita all'associazione di Monza, la delegazione di un respiro di speranza che faremo nascere oggi qui in questo evento, per dare l'informazione ai pazienti di Monza e per dare importanza a lavorare uniti per degli obiettivi uniti. È importante che oggi qui nasca una nuova associazione con l'aiuto di splendide persone con le quali siamo in contatto già da diversi mesi e con le quali condividiamo gli stessi obiettivi. Obiettivi comuni, il riconoscimento della patologia IPF come malattia rara, il riconoscimento delle garanzie per i pazienti di IPF ad una cura certa e non solo, il riconoscimento di uguali diritti per tutti su tutto il territorio nazionale. Questo è un primo passo per altre associazioni che nasceranno con il simbolo e con il nome di un respiro di speranza che ci accomuna anche ad altre associazioni nel territorio nazionale come Respirare di Catania che sta facendo il nostro stesso percorso e con il quale noi vogliamo riunirci in un futuro prossimo in qualcosa che possa dare un'unica voce nazionale alle problematiche dei pazienti di IPF e delle malattie rare del polmone. L'evento di oggi porterà sicuramente grandi cose e grandi speranze per le persone che sono convenute qui per avere nuove informazioni e per dare vita a questa nuova associazione. Colgo l'occasione per ringraziare il professor Pesci che ci ha ospitato oggi nelle strutture dell'ospedale di Monza. Colgo anche l'occasione per ringraziare la Omar che ci ospita come al solito nei suoi spazi e nel suo portale e colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone che veramente si stanno impegnando per realizzare qualcosa a livello nazionale.